La Polizia di Stato incontra gli studenti dell'Istituto Brancati di Belvedere. Nella mattina di odierna i componenti dell'Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa nell'ambito degli incontri di legalità organizzati in sinergia con l'Ufficio Scolastico Provinciale nella Scuola di Siracusa Provincia hanno incontrato gli alunni delle terze medie del XII Istituto Comprensivo Brancati, plesso di Via Cavaliere di Vittorio Veneto di Belvedere diretto da Stefania Gallo. Accolte dal dirigente scolastico e dal corpo docente, i poliziotti hanno coinvolto gli studenti sull'importanza del rispetto delle regole, delle leggi, sull'utilizzo consapevole dei social network, sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sulla prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga e sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso e sul significato dell'impegno antimafia. Gli studenti, invitati a porre domande sulle tematiche affrontate, hanno interagito con i relatori ponendo loro numerosi quesiti e pertinenti osservazioni.